Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi un confronto per me molto interessante in una mano iPhone XS Max e nell'altra Galaxy S10 Plus Allora, vorrei sottolineare che questo è un confronto in cui vorrei presentare una prima impressione sulle mie sensazioni che non vogliono essere opinioni visto che nell'ultimo video abbiamo passato circa tre giorni nel cercare di stabilire se una recensione si potesse fare in uno o due giorni allora vi dico, proviamo a fare questo confronto tra iPhone XS Max e Galaxy S10 Plus se dovessi dimenticare qualcosa ovviamente sono sempre a disposizione in qualunque momento per qualunque domanda voi vogliate porre vi ricordo, ne approfitto prima di cominciare il confronto che è disponibile anche il nuovo podcast di Mr. Gadget su SoundCloud, iTunes, TuneIn, su Anchor, su Google Podcast Insomma, in tutte le piattaforme di podcasting trovate il nuovo podcast di Mr. Gadget provate ad ascoltarlo e poi ditemi che cosa ne pensate Allora, Galaxy S10 Plus e iPhone XS Max sono i due prodotti di punta che arrivano da Apple e da Samsung bisognerebbe capire se sono la stessa generazione o i sei mesi che li dividono in realtà fanno del Galaxy S10 Plus una generazione successiva intanto si sfidano sul mercato 6,5 pollici di diagonale contro 6,4 OLED contro Dynamic OLED due display di altissima qualità e peraltro anche delle misure che tutto sommato sono veramente molto ma molto simili vediamoli da vicino sovrapponendo i due telefoni è facile vedere come le misure siano veramente quasi identiche perché abbiamo 7,7 mm di spessore di iPhone 7,8 mm per S10 Plus e poi 77,4 mm di spessore anche se devo dire che la percezione non è che ci siano addirittura 3 mm di distanza tra i due perché 77,4 mm ecco se li mettiamo così forse sono più visibili per iPhone e 74,1 invece per S10 mentre la misura in verticale ci dice che sono 157,6 mm di S10 Plus mentre sono 157,5 quelli di iPhone si sente molto invece la differenza nel peso 175 grammi per Samsung e addirittura 208 grammi per iPhone e in mano si sentono veramente tutti soluzione frontale allora abbiamo detto Dynamic AMOLED contro OLED e c'è anche Notch versus invece AirBuchetto un buchetto che è doppio sul Galaxy S10 Plus singolo invece nel modello S10 devo dire che la differenza fondamentale sta nel Face ID che riesce a fare la scansione 3D non succede invece con la doppia fotocamera frontale tra l'altro è una soluzione questa curiosa a livello di leggibilità del display vorrei farvi vedere immediatamente che insomma la leggibilità di questo OLED di iPhone è veramente di ottimo livello anche la riproduzione dei colori è ottima ma lo è anche per il Dynamic OLED di Samsung la definizione è migliore nel telefono di Samsung siamo a 1440 x 3040 pixel con addirittura 526 pixel per pollice se prendo iPhone siamo invece a 1248 x 2688 pixel con 456 pixel per pollice insomma è una bella differenza ma a livello di definizione devo dire che il comportamento dei due display è comunque davvero eccellente se guardiamo anche altri dettagli estetici del telefono curiosamente ci sono delle somiglianze guardate ad esempio volume rocker o controllo del volume è esattamente nella stessa posizione poi il Galaxy S10 e anche il tasto Bixby nella parte superiore invece c'è il cassettino per le due sim è un cassettino ibrido quindi due sim o una sim e una micro SD sull'altro lato invece il pulsante di accensione per entrambi e poi iPhone ha anche il cassettino per la singola nano sim sulla parte inferiore lightning port per iPhone USB type C invece per Samsung e poi Samsung ha anche la porta da 3,5 mm per le cuffie che secondo me è un regalo straordinario ai suoi utenti poi la configurazione invece posteriore con la tripla fotocamera di Samsung contro la doppia fotocamera di iPhone poi vedremo bene i dettagli anche sulla parte frontale siamo con la True Face ID True Face cioè la fotocamera frontale di iPhone che sapete insomma combina la singola fotocamera con la fotocamera 3D per il Face ID e invece doppia fotocamera per Samsung ma curiosamente appunto non c'è la soluzione del 3D insomma due telefoni comunque di altissimo livello sappiamo che questi sono telefoni con una dotazione diversa dal punto di vista hardware non lo vedremo di certo scorrendo i display però se chiudiamo tutto ad esempio tutto quello che è stato aperto su entrambi i telefoni potremmo ad esempio provare a confrontare l'apertura del browser vedete che essenzialmente insomma un'esperienza che è molto simile con Samsung potete scegliere di usare i pulsanti tradizionali oppure le gestures peraltro questo è un tema che probabilmente cambierà ulteriormente quando arriverà la prossima edizione di Android che cambierà ulteriormente l'utilizzo delle gestures sul software faccio un altro tentativo che vi mostro ad esempio quello dell'apertura della fotocamera vedete ci sono queste funzionalità semplici, minime che tutto sommato rendono l'esperienza praticamente identica volevo provare invece qualcosa di un pelino più impegnativo per il telefono cioè il caricamento di Real Racing 3 per vedere, no ho sbagliato però vedete che essenzialmente i due telefoni sono partiti quasi contemporaneamente adesso vediamo che il caricamento di iPhone è stato comunque più veloce da questo punto di vista sappiamo che il processore A12 Bionic di Apple è veramente un portento altra caratteristica ad esempio di iPhone è che c'è un coprocessore M12 che invece non esiste nell'architettura che Samsung e Qualcomm hanno pensato per i loro processori però ecco diciamo che sono passati diversi mesi dall'uscita di iPhone ma abbiamo visto ad esempio da questo esempio di un caricamento un po' più impegnativo come il processore di Apple si difenda veramente ancora alla grande un altro elemento distintivo importante ovviamente è la fotocamera abbiamo già visto dunque come sono diversi le implementazioni 12 più 12 megapixel per iPhone che ha un sensore normale e un sensore zoom quindi con un zoom ottico 2x al suo interno e poi invece l'implementazione che è stata fatta da Samsung con 12 più 12 più 16 in questo caso abbiamo un sensore wide con un sensore ultra wide quindi con un grand'angolo che addirittura ricalca l'ampiezza di visione dell'occhio e poi abbiamo invece il sensore con lo zoom ottico quindi scusate con lo zoom 2x quindi con la possibilità di avere una profondità di campo diversa e quindi avvicinare gli oggetti quando noi scattiamo che cosa succede esattamente? allora la fotocamera di Samsung ha queste tre opzioni vedete se io piazzo un oggetto questo è il grand'angolo questo è lo scatto normale e questo invece è lo zoom quando utilizzo per la stessa funzione per lo scatto fotografico iPhone vedete ho questa possibilità dello zoom ma non ho la possibilità di utilizzare un grand'angolo per quanto riguarda invece il funzionamento io trovo che in assoluto lo slow motion di iPhone sia tutto sommato più semplice da utilizzare e anche poi da rielaborare successivamente per il resto la fotocamera tutto sommato non ha delle dinamiche molto diverse la modalità ritratto di iPhone sapete che vi dà la possibilità di scegliere diversi tipi di illuminazione anche quando utilizzate la cosa simile cioè il fuoco live di Samsung avete diverse tipologie di effetto che vengono utilizzate a me piace molto ad esempio questa tipologia quella che mette a colori solo ciò che è a fuoco e il resto tutto in bianco e nero diciamo che le modalità di utilizzo della fotocamera per quanto riguarda Samsung offrono immediatamente un mare di funzionalità in più per quanto riguarda proprio le opzioni che potete utilizzare della fotocamera bisogna dire che il risultato finale dal mio punto di vista è anche probabilmente superiore per il Galaxy S10 in tutti i suoi aspetti ma non maltratterei troppo iPhone che comunque si comporta assolutamente molto molto bene anche con gli scatti notturni diciamo che anche negli scatti notturni il comportamento dei due telefoni è un po' diverso dal punto di vista delle rese cromatiche un po' più dopato il risultato di Galaxy S10 un po' più naturale, un po' più scuro invece quello di iPhone diciamo che iPhone ricalca un po' di più l'occhio umano ma la capacità di riprendere anche di notte di Galaxy S10 è veramente eccellente per quanto riguarda la fotocamera anteriore due sensori 10 più 8 megapixel su Samsung e tra l'altro vi faccio notare una cosa importante che Samsung anche nelle foto anteriori vedete vi dà le due possibilità di scatto con lo zoom o con lo scatto tra virgolette grandangolare questa è una differenza fondamentale rispetto ad iPhone invece che nella fotocamera frontale vi dà sempre la possibilità del ritratto non ci sono invece zoom o grandangolo o altri effetti particolari sulla fotocamera di iPhone diciamo che Galaxy S10 è stato catalogato il miglior telefono insieme a Mate 20 Pro e insieme a P20 di Huawei sul mercato in questo momento ma io continuo ad apprezzare tantissimo la qualità di iPhone nel fare foto più che altro il fatto che ciò che scatta sia molto attendibile rispetto alla realtà c'è un altro dettaglio molto importante, i formati mentre iPhone vi permette di fare le foto nel formato fotografico classico invece con il vostro telefono Samsung avete svariati formati tra cui scegliere vedete la scelta viene fatta in questa posizione ancora una volta fotocamere diverse tra loro molto più semplice, più immediata, più istantanea quella di iPhone, un po' più elaborata quella di Samsung mi piacciono molto i risultati di S10 ma ancora una volta non butterei assolutamente via la fotocamera di Apple che rimane una delle migliori del mercato audio, guardiamo insieme i display per vedere l'ascolto di Radio Number One per entrambi c'è la riproduzione stereo dell'audio devo dire che entrambi con volume molto alto la definizione del suono è difficile forse coglierla dal microfono però la definizione del suono è un po' migliore invece su iPhone è perché riuscite a cogliere comunque i bassi un po' più pronunciati, più gradevoli secondo me da ascoltare l'ascolto in capsula è ottimo per entrambi parlo delle conversazioni, viva voce dunque anche per le conversazioni telefoniche per entrambi molto ma molto forte devo dire che anche dal punto di vista della qualità microfonica più o meno entrambi si equivalgono un aspetto importante, difficile da mostrare è quello della batteria iPhone ha fatto un salto in avanti notevole rispetto al passato proprio nella resistenza della sua batteria Galaxy S10 è stato accolto con un po' di scetticismo io ho visto delle prove che sono arrivate addirittura fino a 10 ore e mezza di riproduzione videocontinuativa con il display messo al 50% della sua luminosità diciamo che si arriva a un pelomino di 6 ore di schermo acceso non è sicuramente il risultato migliore del mercato però io continuo a dire che se qualcuno di voi guarda il display del telefonino per 6 ore nell'arco di una giornata non ha bisogno di una ricarica più rapida ha bisogno di qualcuno bravo che lo aiuti a vincere una dipendenza sulla parte posteriore del telefono è stato usato il vetro per entrambi i dispositivi perché entrambi hanno la carica wireless la batteria ha comunque una capacità molto diversa tra i due dispositivi vi ricordo che la differenza tra i due dispositivi sta nel fatto che uno ha 4100 mAh di capacità l'altro 3174 e questo mi fa pensare che l'autonomia e l'ottimizzazione di iPhone sia di gran lunga superiore rispetto a quella di Galaxy S10 avrò sicuramente dimenticato degli aspetti c'è il tema dello sblocco abbiamo detto con il volto che è più affidabile con il Face ID di Apple ma io non sono mai riuscito a sbloccare con una foto il mio telefono per sicurezza comunque ho lasciato l'impronta digitale ecco il sensore ultrasonico diciamo che non è precisissimo da questo punto di vista amavo molto quei bei sensori che c'erano sul retro del telefono dove appoggiavi il dito e lo sblocco era immediato ci sono a proposito proprio dell'utilizzo del telefono un po' anche di altri aspetti perché qualcuno ha detto sì ad esempio però iPhone ha il 3D Touch e Samsung no ecco vero fino a un certo punto perché comunque anche con la versione di Android che viene utilizzata dal Galaxy S10 grazie alle personalizzazioni che vengono fatte comunque scusate che ho sbagliato e grazie anche alle personalizzazioni che vengono fatte da Samsung vedete ci sono comunque delle scorciatoie immediate date dalle icone che vedete sul vostro desktop verso funzioni del telefono due telefoni che abbracciano due filosofie diverse entrambi secondo me con una qualità che sono veramente al top non state tanto a guardare la scheda tecnica da vicino perché secondo me lascia un po' il tempo che trovo pensate all'esperienza d'uso tirate fuori questi telefoni dalle tasche e fate cose entrambi vi danno un'esperienza utente veramente eccellente a voi sta scegliere quale dei due mondi vogliate abbracciare quello di iOS oppure quello di Android fatemi sapere cosa ne pensate di questi due prodotti e quale dei due voi preferite ciao